Bene amici di Topland, J.Ugo vi dà questo comunicato, questa edizione di J.Ugo va in onda in forma ridotta per venire incontro alla vostra comprensione. Bene, con gli acquisti che stiamo facendo e quelli che abbiamo in animo di fare, mi sembra che la Juventus si stia predisponendo per una stagione super, ne siamo molto contenti e ci aspettiamo grandi cose. Penso che anche l'immagine della Juventus si dovrebbe aggiornare come alla seguente slide e naturalmente il compito è quello di asfaltare. Saluti Italia Centrale, J.Ugo, stop al Televoto.